ciao da turisti squadrinati oggi vi mostriamo la classifica delle città europee più visitate nel 2023 questa classifica tiene conto solo degli arrivi internazionali ma prima di iniziare volevo ricordarvi che per supportare il nostro canale vi basta solo lasciare online condividere il video e iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e via con la classifica al decimo posto milano al nono posto praga all'ottavo posto barcellona al settimo posto berlino al sesto posto monaco di baviera al quinto posto londra al quarto posto roma al terzo posto madrid al secondo posto amsterdam e al prim posto parigi Grazie a tutti